Signori, buonasera, scusate il suffo un po' da ventenne, però lo so, lo so ragazzi Ciao amici miei, ciao ragazzi Vengo direttamente dalla palestra, post-dosh e tutto, quindi insomma Si è lavato Sì, non mi andava di farmi i capelli Ecco, questa è la verità, questa è la verità Signori, signori, buonasera, oggi sono contento Allora ragazzi, siamo contenti, grazie a Cacure per i beat Siamo contenti perché il fanzette del BERT è bellissimo Ma non solo E tutti lo abbiamo accolto benissimo Perché ho visto che c'è stata una grande accoglienza da parte di praticamente tutti Io pensavo, vabbè, ora ci sarà qualcuno e magari avrà più da ridire su qualcosa Oh, paradossalmente abbiamo messo il voto più basso Esatto E io pensavo, ma, secondo me è bello alto Però, signori, su questo c'è da fare un discorso Non è sfocato Su questo c'è da fare un discorso, ovvero alcuni hanno detto Uno in particolare mi ha scritto, saluto, mi ricordo come sia Ma ha scritto, però avete messo solo poco di più rispetto a Final Fantasy X Allora, ragazzi A parte il fatto che da quest'anno, ve l'avevamo già detto in live Soprattutto vogliamo essere ancora più giusti, corretti con i voti E quindi questo può coincidere con essere un po' più stretti ancora Perché secondo me si è ritornati ad andare verso il troppo alto Per quanto riguarda le varie testate Non tanto quelle italiane in realtà, signori Ma soprattutto quelle straniere Quando si sono visti quei cento a Gollum Quei cento a Robocop Perché per carità, bei giochi però Ecco, un pochettino abbiamo pensato Sì, secondo me è giusto che almeno qualcuno Tiri un attimino le cordine di sti voti Che sennò li evitano come se niente fosse Poi, perché niente in realtà, ognuno assume la sua linea editoriale Pazienza Quindi se vogliamo con la linea dell'anno scorso Potrebbe essere anche un 9, un 9 passa Un 9,2 ecco se vogliamo Ma in realtà è Final Fantasy XVI Che oggi avrebbe preso un 7,8 Il voto che avrei voluto mettere io Inoltre in realtà su Final Fantasy XVI Questo ve lo dobbiamo dire ragazzi Un po' abbiamo sbagliato Nel senso, sul voto No, la recensione è validissima La recensione rimane quella che è, assolutamente Però il voto Io sono stato io a voler mettere un mezzo punto in più Mentre Midnina voleva mettere 8 Perché all'epoca forse me l'ho fatto un po' abbagliare da tante cose del gioco, no? Beh ci sta Perché comunque ha tante cose bellissime Ragazzi È comunque bello Final Fantasy XVI Siamo esseri umani Si può sbagliare relativamente Fermo restando che comunque Uno se sbaglia un 8 con un 8,5 Non è come sbagliare un 2 con un 10 ovviamente No, se mi permettete questa linea difensiva Nei miei confronti questa ringa Gazzagazzo 82 Ma è anche questo il motivo Per cui vogliamo anche mettere due voti diversi Nel caso in cui non ci troviamo d'accordo Come è stato per Final Fantasy XVI Nasce proprio da questo Da Final Fantasy XVI Che è l'unica Devo dire l'unica recensione Che ci avete un po' contestato Per il voto Non per le parole che usate Per il voto Cioè alcuni hanno detto Sì però 8,5 mi sembra altino E io ero lì a dire Ma forse hai ragione Perché pure Midrina voleva mettere 8 Allora sempre meglio Il voto in più che il voto in meno Perché quello è umiliante per il gioco Certo quando sbagli in difetto è peggio Perché comunque tu con 8,8 e mezzo Stai comunque dicendo che è un gioco Che vale la pena giocarselo Ok anche fosse solo per degli elementi Che valgono la pena di essere giocati Vale la pena di giocare Però Insomma È giusto essere precisi E poi parliamo comunque di un bel gioco Di un gran bel gioco Final Fantasy XVI Ma comunque ragazzi Grazie a Isort Per cui quello che dico io È proprio da questo Grazie Isort 1981 Scusami L'ho interrotta Perdonami Per cui quello che volevo dire io È che proprio dalle considerazioni Su quella recensione Nasce una linea editoriale Un po' più precisa Anche per il futuro Perché Io Personalmente Mi sono trovato un po' in difficoltà Quando abbiamo messo un voto Che dovesse Andare incontro Sia Alle esigenze di voto sue Che a quelle mie Cioè le recensioni Che abbiamo fatto in due Che sono sempre di meno Proprio perché Ci stiamo specializzando molto Cioè io ho le mie recensioni Lei ha le sue recensioni E poi ci sono le recensioni Dei giochi Che invece viviamo Insieme Seppur Attenzione Separati Perché sia il 16 Che il 7 Rebirth L'abbiamo giocato però Ognuno per i fatti pro Su due console diverse In momenti diversi della giornata Insomma Però ragazzi Io ho praticamente fatto tutto Ognuno Poi nella Come dire Secondo me Ogni redattore Ogni youtuber Che faccia recensioni Ha dei voti Che vorrebbe aggiustare Nel passato No? Sì Però ragazzi Alla fine sono solo voti Ecco questo ci sarebbe da dirlo No recensioni Nessuna Recensioni in sé Come struttura Come contenuto Come sostanza Solo il voto Il voto Perché magari cambiano Semplicemente le Come dire Le linee editoriali Le linee editoriali I parametri Ecco Ragazzi Penso che capiti a tutti Quelli che si trovino Nella nostra situazione Cioè che fanno recensioni Con i voti Che poi i voti Siano in decimali O in centesimi O in Che ne so Patatine E pur sempre Comunque un voto Patatine Ci sta che uno Ogni tanto Dica ma sai Forse quel gioco A distanza di tempo Mi sono un po' Ricreduto Un attimino E forse quel mezzo punto in meno Si poteva mettere Oppure quel mezzo punto in più Allora Ecco Stasera è un Q&A Quindi facciamo spazio Anche alle domande Così rispondiamo Non solo su Final Fantasy VII Rebirth Però potete farci domande Anche su Final Fantasy VII Rebirth A cui risponderemo Senza spoiler Quindi ovviamente ragazzi Ci sarà una live spoiler Ci sarà una live full spoiler Che succede nel gioco Perché non rispondiamo Ci sarà una live full spoiler Spero di poterla fare Con gli ospiti anche Sì Abbiamo parlato di Pregianza Sabaku Mike Shosha Solo che se aspettiamo Pregianza Solo che Pregianza Lo deve ancora giocare Deve ancora fare Mike Shosha non so a che punto sia Non lo so Perché ho parlato Cioè parlavo un po' con lui Sabaku Mannaggia la miseria Sta facendo il walkthrough Sul suo canale Eh quindi vabbè Cambacavallo Che l'erba crisci Grazie Tangri1 Ah Chi l'ho finito prima Io Lei Lei Infatti per me è stato difficilissimo Io ho giocato più cose però eh Non avere nessuno Con cui far condividere le mie cose Perché lui giustamente Sì oddio no Però poi a un certo punto Per qualche giorno Ragazzi per me È stata un'esperienza Anche per Midna Penso di parlare a nome di Midna Anche Un'esperienza bellissima Ragazzi bellissima Sì È molto meglio Di Final Fantasy VII Remake Che però comunque Già andava bene Ecco oggi un Final Fantasy VII Remake Mi avrebbe preso Con la nuova linea editoriale Un 8 Netto Anziché l'8 e mezzo Che abbiamo messo No? Sì Se vogliamo Final Fantasy VII Forse un 7,8 Sarebbe stato più appropriato Sì Allora Invece per esempio Il voto di Starfield Per me va bene Perché lo spiego però Però ci sono alcuni voti Che secondo me Ormai non si deve guardare al passato Questa è la nuova linea editoriale I voti del passato Non li rimpiangiamo Però la verità è che Ce ne sono alcuni Su cui non eravamo già d'accordo Fin dall'inizio E Final Fantasy VII C'era uno di quelli Sei stata molto veloce Midna Perché leggevo online Che molti ci hanno messo Anche 70-80 ore Allora Io onestamente Anch'io Ho letto Ho letto questo Però che vi devo dire Evidentemente Sono veloce Ma non Vi giuro che io Non salto nulla Non salto il dialog Non salto le scene Comunque 72 ore hai fatto Lui dice 70-80 Tu 72 Sì Sì infatti No Per fare tutto al 100% Solo per finire il gioco Io comunque ho più di 70 ore Ma tu non hai fatto Tutto il 100% Quasi Tipo il 99,9% Manca veramente poco Sto cercando di prendere il platina Allora noi abbiamo sentito Il parere di Mancosu Che salutiamo Abbiamo conosciuto anche a Londra Di Multiplayer Giusto? Ti immagini poi E di Evriai E faccio la cazzata E di Multiplayer Che lui diceva Che c'è stato 120 20? Per il 100% Più di 100% Per il 100% È verosimile Perché magari ora Midrina Si bloccherà in quella cosa Che la farà stare Di più Poi ci sono tante cose Che per esempio Prendere il massimo Nei minigiochi Nella Regina Rossa Io personalmente Sono cose a cui non mi sono dedicata A così Io personalmente vi dico Io rispetto a Midna Sapendo che Midna Stava affrontando Molte più secondarie Mi sono cimentato Ad andare avanti Come un treno Anche perché Nel frattempo Stavo facendo anche Tanto altro Settimane E ci sono stato Una cinquantina di ore Beh però Veramente sono andato A un certo punto del gioco Vi posso dire A un tot capitolo Sono andato Spedito come un treno E l'open world Per me non era più Un open world A quel punto Dopo averlo esplorato A dovere Nella prima fase L'open world Che in realtà Non è un open world Vero e proprio È un open map Vasto Ma per me è diventato Corridoio per arrivare Al punto in cui Si triggera l'azione Per la main quest Questo è diventato E poi se incontravo Qualcosa nel mentre Tipo appunto I santuari Oppure che ne so Una sorgente Allora la sbloccavo Lo facevo Una torre Lo facevo Ma non andavo a cercare Appositamente le cose Poi me la sono vissuta Post end game Però vi dico Sono arrivato alla fine A una cinquantina di ore E infatti Mi è sembrato Comunque tanto Per come sono andato Veloce io Comunque tanto Cerchiamo di Rispondere a più domande possibili Si Allora Ecco una cosa che non abbiamo detto Mi sono dimenticata Di dirlo nella recensione Cosa il DualSense No io non l'ho voluto dire Allora il controller Il PS5 viene sfruttato Adeguatamente Si Benissimo Però ragazzi Il DualSense è sfruttato Benissimo Però ragazzi Questo mi sembrava Ridonnante Perché ne abbiamo già parlato Nell'anteprima E anche perché C'è un trailer apposito Che parla proprio Che tratta proprio Del DualSense Quando vedete Questi trailer Che li prepara Sony Perché ci tiene Che sono esclusive sue Potete stare certi Che il DualSense Viene sfruttato meglio Di altre esperienze Magari in multipiattaforma Ma molto meglio Cioè ragazzi Davvero C'è una parte in cui si sente Un battito del cuore Sì Sembra di avere un cuore in mano E batte Cioè assurdo È vero È veramente Fatto benissimo Viene usato anche L'altoparlante Per delle comunicazioni Viene usato molto bene In generale Molto molto bene In un gioco Che alla fine Non è che sia una Comunque a turni Tra virgolette Sì però voglio dire Viene utilizzato bene Anche sia Proprio controlli Ma anche Proprio nelle scene Per coinvolgervi Ancora di più Ma Volevo dire Anche un'altra cosa Ah per quanto riguarda I trailer No parentesi Noi quando abbiamo Montato il video Abbiamo detto Per evitare Completamente spoiler Usiamo i trailer Usiamo Gameplay proprio iniziale Senza scene Fino al capitolo 2 E i trailer ufficiali Oh ragazzi Li abbiamo sostituiti Alcuni trailer Perché erano spoiler Col senno di poi Cioè Uno dice Ma a giappone Ma c'è il finale A giappone I giapponesi lo fanno I giapponesi lo fanno Cioè No non l'abbiamo voluto Cioè l'abbiamo messo E abbiamo tolto Allora ragazzi Le nostre recensioni Sono ufficialmente Molto meno spoilerose Dei trailer ufficiali Ma molto meno Ma molto meno Ragazzi È chiaro che però Sono cose decontestualizzate Poi lo sapete A me degli spoiler Non frega proprio un cazzo Nel senso Io personalmente Non li soffro A me possono dire Anche questo personaggio Fa così Vabbè Tanto me la devo vivere io Ok l'ho saputo Magari preferisco Non saperlo No a me danno fastidissimo Gli spoiler No a me non Io li odio Dopo Robert Le vostre opinioni Sull'operazione in toto Sono un po' cambiate Sono migliorate Sono migliorate molto Dico la verità molto Ragazzi hanno fatto Un bellissimo lavoro Un bellissimo lavoro E sono contentissimo Perché mi aspettavo Che fosse un bel lavoro Ma Non così bello Hanno fatto veramente tanto Ragazzi Questo Robert Fa sembrare remake Una cazzata Ve lo dico Fa sembrare remake Come ho detto Tipo una propedeutica Qualcosa di preparatorio Perché deriva Da una parte Di Final Fantasy 7 Molto più vasta Rispetto alla sola Midgar Cioè Quelli con remake Hanno tirato fuori Da un'ora e mezza Di gioco di Final Fantasy 7 Un gioco intero Ambientato in una sola città Qui ci sono Tante città Vari Molto varie Molte cose che succedono No ragazzi No ragazzi La parte di Final Fantasy Più lunga e più bella Final Fantasy 7 Quindi Sono stati bravi A sfruttarla al meglio Ragazzi Col gioco davanti Riderete Piangerete Cringerete Un po' però bene Di quella cringe Che fa ridere Non è Non è cringe È umorismo giapponese Umorismo nipponico Vi affezionerete A tanti personaggi Ragazzi Io non vedevo l'ora Di ritornare A giocare Per continuare A stare in compagnia Di Tifa Erit Di tutti questi personaggi Che ormai erano diventati Amici miei Cioè era una cosa Una sensazione Che non provavo da tempo E per me erano amici Che ho rivisto Dopo tanti anni Comunque Andando avanti Con la trama Si perdono le quest Ci sono avvertimenti Prima del finale Non si perde Nulla Tranquilli Su questo però Ci fermeremmo qui Non si perde nulla Il gioco tranquilli Che non ha voglia Di farvi perdere niente In Final Fantasy XVI In Final Fantasy XVI Invece le perdevate Cioè a un certo punto Si accumulavano Tante side quest In Final Fantasy XVI Un attimo In Final Fantasy XVI Le quest Quelle che erano Poi a un certo punto Da qua in voi Ste quest Ne vuoi fare più Va bene E quindi c'erano altre side quest Ma non erano più quelle Amidina Per il platino Servirà a giocare In modalità difficile Come Final Fantasy XII Remake Ma sai che non ho visto bene Tutti i trofei Non so neanche se posso dirgli Posso dire Dettagli sui trofei Allora Se sono usciti come news Svelati i trofei Di Final Fantasy XVI Li possiamo dire Se non sono usciti come news No perché noi li sappiamo I trofei Ma li sappiamo Perché abbiamo già il gioco Sì Però spoilerarli Sarebbe Spoiler Insomma Anche violazione di embargo Perché comunque Noi Va bene Ringraziamo Square Enix Che ci ha fornito il codice Come effettivamente Ci forniscono sempre i codici Per i giochi Almeno quelli più grossi E Per cui Insomma C'è anche un embargo Nel senso che noi Chiaramente Dobbiamo rispettare Anche certe cose Da non dire Per evitare spoiler E i trofei Voi mi insegnate Certe volte sono Quelle erosiche Da amante del set originale Midna Questo Rebirth Che sensazione ed emozioni Ti ha dato Guarda È stato come Quando tu rivedi Il tuo migliore amico Delle medie E Lo vedi dopo 30 anni E Subito vi ritrovate Subito Vi capite al volo Fate gli stessi scherzi Completate le frasi L'uno con l'altro Entrate subito in sintonia E lo riconosci Dopo tanti anni E questa Questo connessione Ti triggera Tutta una serie Di emozioni Che ti fanno tornare A quando eri alle medie È una bella cosa Che hai detto Cioè Ma tu avevi un miglior amico Alle medie Maschio? No 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 Maschio Amici maschio No 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 Per curiosità No 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 Figurati No no La mia migliore amica Alle medie Si chiamava Alessia Io non avevo migliori amici C'era Alessandro Che saluto Che era un caro amico Ma poi Ne avevo diversi Ma Sì sì Effettivamente fa quella sensazione lì Però Però attenzione Perché il miglior amico Che lo incontri dopo 30 anni Può essere cambiato tanto Final Fantasy 7 Rebirth Ti fa sentire Che è ancora Final Fantasy 7 E questa è una bella cosa Perché attenzione Le modifiche chiaramente Per forza di cose E non ne parleremo più di tanto però Non ne parleremo proprio Dico quello che hai detto tu in recensione Ci sono Ah E chiaramente complicano un po' le cose no? Però Però D'altro canto Non le considererei Come se rovinassero L'esperienza Allora Ci sarà da parlarne Qualche cosa me l'hanno rovinata Non rovinata Qualcosa Basta 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 Me l'hanno Basta Impicciata un pochino Basta Però ecco Il gioco è talmente bello Ragazzi No basta Perché se no Loro possono capire tutto Il contrario di tutto Perché poi Mi fanno anche idee sbagliate Poi fanno l'analisi delle parole Sì 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 no Perché da E magari si mettono in età Space 84 RM DanSub 158 Grazie mille Poi Andiamo avanti Perché Scusa Sali Sali un attimo Sali Raiden L'età Non reggi più i giochi Sei entrato nella fascia dei giochi Corri spara senza pretese Dopo che ho scritto l'altro giorno Che ho giocato 17 ore di fila Dopo aver montato le news la notte E aver domnito due ore Quale età Amico mio esattamente Quale Tu c'hai l'età Che sei del 73 Sei vecchio Dai dai Allora A me onestamente Onestamente Non capisco proprio quello che hai detto Visto che i miei giochi preferiti Sono i JRPG a turni Quindi di che stai parlando Di cosa stai parlando Allora C'è anche una parte 3 Certo che c'è la parte 3 Era già stata annunciata Tanto tempo fa ragazzi Assolutamente sì Ma poi hai detto L'esatto contrario Di quello che ho sempre detto Che mi piacciono i JRPG a turni Che mi piacciono quelli più ponderati Che anzi Mi piace farmare Grindare E dici che voglio gli action Senza pretese Ma chi Chi hai seguito Scusa Dove sei stato Non ha senso Potrebbe uscire un nuovo capitolo Di Final Fantasy Con la qualità di Final Fantasy 7 Rebirth Ma magari Ma magari Ragazzi Questo è un Final Fantasy Del tipo Come ci avevano abituato Gli anni 90 Eh E quindi non li vediamo più Da 24 anni A Final Fantasy Ragazzi Così Quindi Ma magari Voglio Final Fantasy 17 Così Così lo voglio Con Cloud Tifa Sembra gli stessi Che cazzo me ne frega No voglio ragazzi Final Fantasy Allora Final Fantasy 16 Secondo me loro ci hanno voluto provare Di suo Era un bel gioco Per Final Fantasy 16 Però Gioco di ruolo Non si può definire No Per molti versi Solo per le poppe di Tifa No vabbè No Non solo Addio Però Minchia Ma Ma ragazzi Lo vorrei proprio Per me tutti i giochi Dovrebbero essere così Cioè tutti i giochi di ruolo Scusate I giochi Questo è il nuovo sistema di combattimento Il nuovo modo di fare Che mi piace Un bordello Poi chiaramente ci sono tante sfumature Io apprezzo tantissimo Mi piace anzi da morire Like a Dragon Infinite World Che è un JRPG a turni Però con i movimenti Per sfruttare i bonus C'è un sacco di roba Ed è tanto divertente Però ragazzi Secondo me Però quella Quella di Infinite World Non è un'evoluzione Della JRPG a turni È un JRPG a turni Personalizzato Molto caratterizzato Ok Questa invece È la vera evoluzione Del combattimento a turni Quella di Final Fantasy VII Rebirth Perché cambia Ma non ti diventa action A che slash Mai Non è vero Anche Perché ho provato tutte le difficoltà Anche a facile Comunque non puoi andare avanti A fare button mashing Molto più che A livello intermedio E difficile ovviamente No perché non è action Ma alla fine Devi per forza Switchare tra i personaggi Devi usare qualche abilità Perché se no Stai là a fare tutto il tempo così Aspettando che si carichi l'ATB Per nessun motivo Visto che fai tutto il tempo così E a meno che non si tratti Di un toporagno Che ti capita in giro E lo ammazzi in 4-4-8 Per i boss E per le cose più consistenti Ti serve di usare Tante altre abilità E parametri Che sono tipiche Di questo abbiamo parlato Già nella recensione Si può giocare a Rebirth Senza aver giocato A nessun altro Final Fantasy Sì Tranne Tranne il remake Oddio Zè Final Fantasy VII Remake Te lo devi giocare Final Fantasy VII Remake È obbligatorio Perché Dovresti quantomeno E lo so che Non è un consiglio Che io darei Però Quanto meno Dovresti averne seguito Le vicende Se non te lo vuoi giocare Però secondo me Ora come ora E di questo riflettevamo Su questo riflettevamo Con Midnina Se tu sommi Il remake Più Rebirth Ora come ora Fanno il JRPG Di Square Enix Più vasto E migliore di sempre Secondo me Se sommi questi due Se poi a questo ci sommiamo Solo il Rebirth Anche solo Rebirth fa tre quarti Ok E se poi ci sommiamo Anche appunto L'eventuale Il terzo capitolo Diventa Una trilogia Di uno stesso capitolo Diviso in tre parti Che se te lo giochi Tutto di fila Ti fa un effetto Glamoroso E a parte il fatto Che giochi per 300 ore Ovviamente Grazie Tostapane con le ali Ci fate vedere L'action figure di Sè Non c'è No Non c'è arrivata Noi non abbiamo La collection L'ho prenotata Sì va bene Ma noi abbiamo giocato Col codice Che ci ha mandato Square Enix Ovviamente il gioco Per tutti Sì Uscirà il 29 Quindi poi la collection Tant'è vero che Mi è arrivata la mail Dice lo stanno spedendo Tant'è vero che Non sapremmo rispondere Alla domanda Che ha fatto il nostro Aaron Cringe Division Non so se è qui stasera Però Aveva chiesto Se effettivamente Si debba inserire Il disco 2 A un certo punto No perché sono due dischi Ah questo non lo so Perché abbiamo giocato Col disco Perché ci hanno mandato Il codice review Tutto in digitale E quindi direttamente Midna è più forte Il senso Uccio Sidoti Ciao carissimo Eccolo Eccolo E' lui The man The man Midna è più forte Il senso del gruppo Nell'originale In questo In questo In questo Ah nell'originale Non nel remake Aspetta Nell'originale Molto di più in questo Si in questo Molto di più in questo Perché ragazzi Qui proprio hanno creato Ad hoc Tante Anche nell'originale C'erano tante parti In cui dovevate Utilizzare proprio Cioè come Leader del gruppo Determinati personaggi Che non erano cloud Questo succede anche qui Ma molto più frequentemente E inoltre il gioco Ha dedicato delle parti A gruppi specifici A giro Che ne so Una parte dovete farla Con Erit E Red Una parte la fate Con Yuntifa E Bart Ma poi anche le sinergie Ragazzi Ve li fanno girare sempre E non solo Tra loro Parlano molto di più E ci sono missioni dedicate A loro Ci sono i rapporti Di simpatia Ci sono i rapporti Di simpatia In confronti di cloud Che ragazzi Questa cosa E' fatta in maniera Abbastanza esile Cioè questa cosa Della simpatia Che ovviamente A seconda di come rispondete Loro provano Più o meno simpatia Per cloud C'era anche Nell'originale Sì Però era Nascosta Non si vedeva Ed era tutto al fine Di una certa scena Del gioco Ok Sì Qua è per più scene Vabbè Non posso Rispondere A questa cosa Che hai detto Però diciamo No Per più scene Secondarie Sto parlando di cose secondarie Principalmente E' per una cosa Va bene Comunque Io stavo parlando Di anche scenette Quindi c'era anche L'originale Per questo Final Fantasy Per questo Per tanti altri motivi Final Fantasy 7 originale Era Il top Raga Non è che ce lo inventiamo Qua eh Non stiamo a scoprire L'acqua Tra l'altro Mi ha fatto ritornare Tanta voglia di Final Fantasy Tanto Mi ha fatto E' come Quando dice Oh cazzo Finalmente Square Enix Questo devi fare Ottimo Perché Square Enix Non fa cose brutte Ok Non le ha mai fatte Cose brutte Oddio No Non le ha mai fatte No Attenzione Lo so che state pensando Già a Babylon's Ball A The White Man Quelle non sono Di Square Enix Sono prodotte Da Square Enix Ok Quelle sono cose brutte Ma E anche Square Enix Stessa Qualcuno potrebbe Effettivamente Avere da ridire Dire Sì Qualcosa di brutto L'ha fatta anche Square Enix Secondo me Cose brutte A quei livelli Di Babylon's Ball E The White Man No No Però comunque Sulla serie Final Fantasy Il 15 Non era male Il 16 Non era male Ma cazzo Quanto è Distante Da questi due episodi Il 7 Reverte Perché ti fa capire Che è quella Square Enix lì Allora By Sages dice Buonasera ragazzi Numura ha dichiarato Di avere paura Di come avrebbero reagito I fan al finale Senza scendere nel dettaglio Vi chiedo Aveteva ragione Allora Non rispondiamo Cercherò di essere Più vaga possibile Capisco Che Nomura Potesse avere Dell'ansia da prestazione Perché Non è tanto Il discorso del finale Ma Ci sono delle parti In più Rispetto a Final Fantasy 7 Esatto Non necessariamente Una storyline in più Rispetto a Final Fantasy 7 Che io ho bocciato Totalmente Cioè per me Poteva non esistere Anzi doveva non esistere Io non sono ormai Più d'accordo Lui non tanto Per il semplice fatto Che io ho abbracciato L'idea del fatto Che questa nuova trilogia Sia un Quasi what if Approfondimento Del set originale E a me ormai Piace Ma Capisco E l'ho detto anche Nel video di oggi Nella recensione Che aggiunga Complessità Laddove non era necessario Unnecessary Cioè una cosa Dice vabbè Ma c'era bisogno Ecco Le corse di ciocobo Sono soddisfacenti Sì Nel senso che Prendono tanto Da Mario Kart Da Mario Kart Perché c'è la derapata Ci sono pure Le scorciatoie Sì sì Ci sono pure le scorciatoie Sono carine Ogni tipo di ciocobo Ha un'abilità diversa Per esempio Il ciocobo Quello normale Colore normale Giallo Può accelerare Sì C'è il ciocobo Che può Scutare l'acqua E quindi può D'annunciare Tipo A ricerca Come il guscio rosso Di Mario Kart Sì sì Cioè ognuno Ha le abilità diverse No devo dire L'equipaggiamento L'equipaggiamento Influisce sulla velocità Sull'accelerazione Si sono sbattuti Anche sul resto Dei minigiochi Si sono sbattuti Perché Poi i ciocobo Chiaramente Nel Gold Saucer Gareggiano In ambito Vabbè Questo l'avete visto Nel trailer Voglio dire Si vede che gareggiano Appunto nel Gold Saucer Come corse vere e proprie E bastano Oltre al fatto Che voi però Possiate correre Col Col ciocobo Anche In giro per il mondo No Cioè Voi potete avere Varie tipologie di ciocobo In giro per il mondo E sfruttando Nelle caratteristiche peculiari Per esempio E questo si vedeva sempre Nel trailer Ufficiale C'è il ciocobo nero Che si arrampica Sulle pareti E' tutto scriptato Nel senso Ci sono proprio Le pareti apposite Dove arrampicarsi Così come anche Le pareti In cui arrampicarsi Solo con Cloud Sono apposite Addirittura C'è stata un'ampia Lamentela Sul discorso Che fossero Verniciate di giallo Per far capire Al giocatore Più ottuso Che quella È una parete Scalabile Io tutta sta Polemica Onestamente Signori No ma infatti Mamma mia C'era già stata Resident Evil 4 Io lo posso capire Sì ci sono soluzioni Di design Forse più brillanti Piuttosto che Verniciazzare I pioli Di una parete Da scalare Sì Però è anche vero Che tutti i pioli Che dovete scalare Di una parete Che sono messi là Gli appigli Sono artificiali Non sono naturali Cioè non è una montagna Di Uncharted Ok È una montagna In cui qualcun altro C'è già passato E ha creato Quei passaggi Quindi volendo Ci può stare Che ci abbia passato Della vernice gialla Non è un voler Arrampicarsi sugli specchi Perché è veramente così Sono dei passaggi Predefiniti E in un gioco di ruolo Ci possono stare Non è un action Appunto Quindi finalmente In squadra Hanno imparato a scrivere Delle missioni secondarie Secondo me Secondo me Sono migliorati Sono migliorati E queste si avvicinano Di più A un A uno Yakuza Diciamo Quindi Hanno Sono più varie C'è più storia C'è un sacco Di similitudini Con l'ultimo Yakuza Ragazzi Con l'ultimo Like a Dragon Io ho notato proprio Perché io giocavo insieme A voi A Like a Dragon Infinite World Nel frattempo E c'è un sacco Mi veniva da dire Cazzo sta cosa C'è pure in Final Fantasy Ma non potevo dirlo Perché ero sotto embargo Allora Si possono fare Riprodurre i ciocobo Non so Rispondere a questa domanda E spoiler Non risponderei Lasciamo con Non lo so Non si sa Voglio dire una cosa Secondo me Tantissime cose Tantissime cose Che c'erano In Final Fantasy 7 Originale Le vedremo Nel terzo capitolo Si Tantissime cose Che normalmente Si facevano Nella parte finale Di Final Fantasy 7 Saranno tutte Dedica Perché già Questo ha tanto Ha tanto Tanto E' pieno 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 Ma non ha tutto Quello che va a Final Fantasy 7 Originale Lo vedremo Nel terzo capitolo Quindi Secondo me Ragazzi Altra cosa Se avete giocato la demo E non vi è piaciuta Particolarmente Sappiate che la demo Non rappresenta Per niente Poi Quello che potete Vivere nel corso del gioco Nel corso delle ore di gioco Che è caratterizzato Da una cotale varietà Delle cose da fare E delle zone da vedere Da visitare Che la demo E' veramente appunto Un inizio Tant'è vero che Nella recensione Lo avevo detto Poi l'ho tagliato Perché mi ero perso Un pochettino La portavo troppo Per le lunghe Però io avevo detto Quasi quasi Square Enix Ogni volta che fa Io apprezzo Che Square Enix Sia una delle poche Che mantiene Questa tradizione Di presentare Le demo Al pubblico Così come fa Capcom Per i suoi Resident Evil Insomma Anche per Lo fanno Tendenzialmente Sono ormai i giapponesi Che fanno le demo Perché gli altri Ormai Però D'altro canto Le demo ormai Io capisco Perché nel 2024 Ma anche da un po' Non vengano fatte più Perché spesso Sono un po' Controproducenti Cioè Devi selezionare Una porzione di gioco Spesso è l'inizio L'inizio magari È un po' diesel Ma poi è molto narrativo Cioè È narrativo La parte con cui inizia Final Fantasy VII Rebirth Ovvero la parte della demo Che è un flashback Quindi È molto narrativo Poi tra l'altro Effettivamente L'hanno fatta finire male Sta demo Cioè la parte finale Del flashback È inspiegabilmente Infatti ci hanno aggiunto Una seconda parte Adesso ci hanno aggiunto Una seconda parte Sì ma comunque Quella rimane Quella parte lì Quel capitolo Quello è un capitolo Quello c'è anche Nel gioco originale Nel gioco finale Final Fantasy VII Rebirth Quel capitolo Che avete giocato Nella demo C'è anche nel gioco completo E quel capitolo Non è brillantissimo Vi dico la verità Non è brillantissimo Per diverse cose Di cui parleremo Poi nella live Full spoiler Anche se questo Non sarebbe uno spoilerone Visto che è proprio L'inizio Ed è nella demo Ok Però Questa è una cosa Che fa parte Della chiacchiera Spoiler Midna Se dici così Mi fai pensare Che sia immenso Vuoi dirmi Che il Rebirth È più vasto Di un Final Fantasy X Come cose da fare Allora Michele è un EK In realtà Final Fantasy VII Rebirth Sicuramente Ha molte più secondarie Intese come classiche Quest secondarie Rispetto a un Final Fantasy X Quindi molti più incarichi Luoghi da scoprire Eccetera Però non Come endgame Se noi intendiamo Come sfide secondarie Questo sicuramente Non c'è nulla Di paragonabile Agli oni oscuri O del Richter Insomma tutto quello Che riguardava Le sfide Perché in Final Fantasy X Potevi Espandere moltissimo Poi vabbè C'era La Piana dei Lampi Per carità Era tantissima roba La Piana dei Lampi Final Fantasy X Inarrivabile Sì a questa domanda Da questo punto di vista Poi non vado oltre Non so neanche rispondere bene Perché qui la memoria Non mi sta accompagnando Però I soggetti in italiano Sono migliorati O hanno tradotto come nel remake Allora ragazzi Abbiamo giocato in giapponese C'è qualche traduzione libera Soprattutto nella versione inglese Cioè certe volte magari In inglese Sì no no Ci sono delle cose Che non corrispondono Allora non ricordo se Nella versione italiana Dall'inglese O nella versione inglese Dall'inglese sempre Oppure Però alla fine Siccome noi abbiamo giocato Con Dialoghi In giapponese E Testi Sottotitoli In italiano Non ti saprei dire Perché non so Conosco così bene il giapponese Però dall'inglese Sì qualche cosa Un po' così c'è Allora Da non conoscitore Del set originale Come vi immaginate La terza parte Sulla base di ciò Che resta da raccontare Un gioco più Sulla scena remake O re-birth Allora Ovviamente Per quello che rimane Di Final Fantasy 7 Sicuramente molto più Sulla scena e re-birth Perché ragazzi Final Fantasy 7 remake È ambientato solo In una città Quello che rimane Da raccontare Del Final Fantasy 7 Originale Richiede di vedere Più città e posti ancora Quindi Sicuramente Sarà più come re-birth Il che è un'ottima cosa È accessibile E Dov'è? È accessibile È comprensibile A chi non ha mai giocato L'originale O è ostico Da comprendere Alcuni passaggi Se giochi dal re-birth Siamo sempre lì È meglio aver giocato Il remake Perché altrimenti Alcune cose dirai Ma questo Quando è successo? Allora Però rispetto all'originale Non per forza Lo troverai Incredibilmente Complicato Perché Già l'hanno complicato Per chi lo conosce Per chi non lo conosce Dirai Però comunque Tutto spiegato bene Cioè non c'è nulla Di criptico È complicato Ma non criptico Final Carg 7 Ne abbiamo parlato All'inizio live Magari qualcuno Che glielo spieghi Dice Rai nel ricordo Che il voto dato al 16 Era più o meno Quello di re-birth Sì Ne abbiamo parlato All'inizio Un Final Fantasy 8 remake Fatto in questo modo Ti piacerebbe più o meno Di un Final Fantasy 9 remake Perché Mi piacerebbe molto più Un Final Fantasy 9 remake Fatto così Per il discorso varietà Perché Final Fantasy 8 Non è così vario Né come personaggi Né come ambientazioni Né come eventi E né come cose che succedono Final Fantasy 9 È decisamente più vario È anche quel mood Un po' più comico Quel mood un po' più Ricco di tante personalità E personaggi diversi Che è quello che succede Anche nel 7 E nel 7 remake Re-birth Viene molto enfatizzata Questa cosa Quindi Un remake di Final Fantasy 8 Sarebbe fantastico Ragazzi Perché io amo Final Fantasy 8 Anche se non è il mio Final Fantasy preferito Però secondo me Ancora meglio Sarebbe un 9 Remake Fatto così Ci sono scene di nudo Secondo voi Oddio E mi fermo qua Oddio Ma avete sentito che no Che Amaguchi avrebbe dato Inizi sulla data di uscita Del terzo capitolo Di Final Fantasy 7 Remake Stando alle sue parole La finestra di lancio Dovrebbe essere Inizio 2028 E speriamo Perché vuol dire Che sarebbe uno Ogni 4 anni Io spero che sia Al massimo Fra 4 anni Cioè se mi dicessero Guarda Inizio 2028 Va bene Ci metto la firma Perché ragazzi Con Final Fantasy 7 Rebirth Capite perché si sono presi 4 anni Rispetto alla remake Raiden Ma Red Va sul Chocobo Sì Sì Lo facciamo vedere Pure nella recensione Ragazzi Ed è ridicolo Si può premo Sì No io ho messo Una bella Serie di timestamp Quindi dovrebbe Dovrebbe trovarlo Sì perché c'è Red Sì c'è scritto Chocobo Però Esplorazione Deve andare in esplorazione Gameplay esplorazione 5.30 E Ora arriva Ed ecco Facciamo vedere Aspetta un attimo Sì bene Nel frattempo Facciamo passare Delle immagini sotto Anche perché Voglio dire che c'è Sono immagini Della recensione E la nostra recensione Non spoiler assolutamente È la nostra recensione Questo è l'inizio del gioco Quindi non È semplicemente La nostra recensione Ah ecco Come viene gestita la squadra Quando si hanno a disposizione Più personaggi Ragazzi Questa è una cosa bellissima Che hanno fatto Io l'ho reputata Carina Se è quella che penso io Non bellissima Si possono scegliere I tre da tenere attivi Si possono switchare Durante i combattimenti Solo dai menu Allora Si possono scegliere I tre da tenere attivi Però Gli altri Sono sempre con voi Combattono Ma non combattono Eccolo Ecco Red Ecco Red Ecco Red Ecco Red Ragazzi Guardate quanto è stupido In sella al ciocco No Sta tutto a ricurvo Guarda È lezzo proprio Ho detto Ma poi che senso ha Che lui sta sul ciocco Cioè lui dovrebbe correre Basta Perché E quella che vedete a sinistra È una fermata Del ciocco Cioè Voi praticamente Vi ferma A un certo punto Siete nel mondo Più o meno aperto E vi ferma Uno di questi ciocco Piccoli Questi qua Che vi invita a seguirlo Però è carino Perché potete anche non seguirlo Ma va aspetta Voi nel frattempo Potete ammazzare nemici Fare il cazzo E va aspetta là Si vi serve Per attivare Un punto di teletrasporto Un punto di teletrasporto Non che è un punto di riposo Ma vi serve il cuscino Perché questa è una panchina Tutta sgarrupata E quindi Dovreste sprecare Usare il cuscino Questo qua è il simbolo Del salvataggio Esatto Sì E nel frattempo Alzando Issando La fermata Perché la sistemate Gli date una sistemata Issate il segnale Di fermata Perché il ciocco Vi chiede questo Vi dice Me la alzi per favore Praticamente questo Lo potete pure accarezzare Ed è carino Perché si fa fare così E vi da anche Delle piume d'oro Le piume d'oro Poi servono Per sbloccare Varie cose Per esempio L'equipaggiamento Del ciocco Come in questo caso Ce ne ha messo alcuni Ce ne ha messo un po' Vedi C'è l'elmo Che serve Questo equipaggiamento Insomma Più cose Ecco Allora Stavo dicendo In realtà Avete sempre il gruppo Tutto il party con voi Quindi nel senso Voi utilizzate solo tre personaggi Lui potete switchare nel menu Anche se siete solo in tre nel party Vedete tutti gli altri membri del gruppo Dietro Che combattono pure Sì Però non Non fanno danno vero Non fanno danno Cioè Almeno però vedete che Li vedete in azione Cioè non sono Ah è con la biga Eh Qui fanno vedere un po' tutto in realtà Però vabbè Sì 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 vabbè Questo è il trailer Questo è il trailer Quindi sì sì La biga Sì E poi Ah qua stavi spiegando Che effettivamente Non è che voi vedete Non è che potete andare In qualsiasi punto Se c'è un Non ci sono muri invisibili Ok Palesi Come Final Fantasy XVI C'era una pozza d'acqua E lui c'era il muro invisibile Però Ci sono Cioè nel senso Se siete su una montagna Ed è piuttosto alta Lui non è che salta di sotto Cioè non c'è totale libertà Ci sono cose che il gioco vi dice No un attimo Qua non ci puoi andare Così come strettoie Le strettoie Dalle quali potete passare Sono solo quelle Con il simbolo Azzurro per terra Che vi indica Che da lì ci potete passare Se non c'è il simbolo Anche se vedete Che dalla strettoia Ci passereste Il gioco comunque Non vi fa passare Perché è un muro invisibile Anzi Non troppo invisibile È un mezzo invisibile Ok Ragazzi Fama capisse È un open world Non con tutti i crismi Dell'open world Cioè non è Che è Skyrim Che se ce la fate Arrambicarvi col cavallo Sulle montagne Allora vi siete arrambicati Qua non le potete fare Certe cose Ma d'altro canto C'era da pretendere Che fosse totalmente libera L'esplorazione In un JRPG così Secondo me no Perché c'è gioco e gioco In cui la libera esplorazione Può avere senso E altri in cui invece Si prendono tutti gli exp Dopo il combattimento Ma è del 93 Non solo È molto clemente Sul mantenervi punti del combattimento Perché anche quando Per esempio Un vostro personaggio in KO Comunque li prende gli exp Mentre invece Nei Final Fantasy originali Ricordami un attimo Se uno era KO Alla fine del combattimento Gli exp non li prendeva Ne prendeva di meno In Final Fantasy originale Lo dovevi avere nel party Se no non prendeva exp No Ma se era KO Eh Sempre nel party Ma KO Non prendeva Non prendeva exp Che era una puttanatina Perché tutto sommato Lui aveva fatto esperienza Mi pare di no Io mi ricordo che nell'otto Non prendeva exp Però L'otto aveva anche la cavolata Che prendeva più exp Chi aveva dato il colpo finale Il colpo finale Quindi ovviamente Li prendeva sempre Chi aveva l'attacco più forte Esatto E tra l'altro Te lo spiegava In una maniera Abbastanza raffazzonata Perché lo spiegava Quando andavi A cacciare Ifrit Sì E diceva dai Chi gli dà l'ultimo colpo Vince E uno dice Ma come Che però era Siccome era questa Ragazzi era proprio all'inizio Era una questa Obbligatoria Con Kistis E praticamente Era proprio Kistis Che ti diceva questa cosa Oltre al fatto Che il suo fascino Era Tremendo Perché lo diceva A school Diceva Lo so che il mio fascino Può inibire un po' In effetti era così E ti diceva anche Che l'ultimo Che dava il colpo Vinceva Ora mi pare Che lo dicesse lui Lei Le musiche ragazzi Sono senza senso Sono bellissime Mi disturba un po' L'età di giocare a 30 fps Così estremo Il passaggio da qualità Performance Stanno sistemando A detta loro Stanno sistemando La performance È un po' sbiadita Capito? No è che perde Tanto di risoluzione Perde tanto anche Di dettaglio Dettaglio Cioè hanno No la risoluzione rimane Dovrebbe rimanere A 1440 Attenzione Quella a 30 fps È 4k Potendolo attivare È 4k Però A 1440 A 60 fps Ma Il dettaglio Se ne va A quel paese Ragazzi Anche La profondità Di campo Il level of detail In generale Diminuisce Le ombre da nette Diventano nette Ma spappate Le texture Fanno cacare Un po' In entrambi i casi Questo ormai Abbiamo capito Che è così Però se non altro In questo contesto Semi open world Ci può stare Rispetto a un remake Che però era su ps4 No Ha problemi di ritmo Come la prima parte No No Assolutamente non ha problemi Secondo me no Secondo me no Secondo me no Anche se questa è anche Una percezione un po' più Soggettiva del resto Di parametri Perché effettivamente Dipende anche Oh ragazzi Io ero felice Di ritornare a giocarci Ogni volta Ragazzi Pensate Io nel frattempo Stavo giocando con voi A Like a Dragon Infinite Wealth Certe volte pensavo Non vedo l'ora Di tornare a giocare A Final Fantasy 3 Per me è grave Una cosa del genere Io ho messo da parte Like a Dragon Grazie Dario 1985 Per me è grave E non è che voglio dire Che è meglio Di Like a Dragon Infinite Wealth Però mentre quello Infinite Wealth È una sicurezza Final Fantasy 3 Mi ha stupito tanto E quindi volevo ormai Come dire Andare avanti E tra l'altro Ora lo vorrei Cento percentare Lo vorrei pure Platinare Niente Non volete rispondere Sulla storia No Non possiamo rispondere Non è che non vogliamo Non possiamo Veramente ne abbiamo parlato Abbiamo già detto tanto Abbiamo dedicato 5 minuti e 29 6 minuti quasi Alla storia 5 minuti e 29 Nel nostro video O sul YouTube Però non te la possiamo Amico mio Non te la possiamo spoilerare Né a quelli che magari Non avevano neanche chiesto niente Perché l'hai chiesto tu Ma altri 300 400 Ma 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 è un cretino Perché devi dire È un cretino Perché dice Ci è arrivato il bonifico Quindi lasciamo aperto Ah ma quello Che c'entra Non ti confondere Col bonifico Che ho fatto a tua sorella Per quando una volta C'è stato un incontro Una volta Ancora non la conoscevo Però minchia Ancora se la ricorda Niente Lasciamo aperto C'è la possibilità Di impostare Il comportamento Dei compagni Come era possibile In Dragon Age Inquisition In Dragon Age Origins Più che altro No purtroppo No non c'è Una specie di sistema Di IA Comunque niente di che È che a tua sorella Ho venduto Un gioco Per PS2 Questa Sì sì Ehm Ignoriamo Ignoriamo Amico mio È un open map Più in stile Allora Naputenza Giusto Che tra l'altro Il nick è carino Se sei di Napoli È bellissimo Naputenza Top Cerchiamo di diventare amici Piuttosto che Fare schifo Amico mio Purtroppo Per quanto riguarda La trama di Final Fantasy Settere birth Qualsiasi cosa diciamo Potrebbe essere interpretata male Dal resto del pubblico E magari Non possiamo dirti Se C'è la cazza Già Midna si è esposta tanto Dicendo che boccia Ho bocciato tutto quello Che stava aggiunto Non mi è piaciuto per niente Però Si vede che non te la sei vista La recensione Eh infatti Però deve arrivare A insultare Più di questo Che ti dobbiamo dire Che ti dobbiamo dire Quel momento lì Amico mio Ma che cazza d'è Questo sarebbe uno spoiler Gravissimo Che magari tu Dici Ma io lo voglio spoilerato Sì ma gli altri 500 No E altri 500 Altri migliaia Che seguono la recensione No Non è questione Di aver ricevuto il bonifico È questione Che probabilmente Avremmo dovuto pagare Noi chissà quanti migliaia di euro Se l'avessimo spoilerato Ci avrebbero detto Ah sì vi facciamo causa Probabilmente no Però sicuramente Ci avrebbero guardato storto Per la serie Ma che cazzo fate Spoilerato una cosa del genere Perché ragazzi Qualsiasi cosa Diciamo Su quei momenti Lì Sarebbe interpretabile Come uno spoiler Sia che diciamo Sì Sia che diciamo No Sia che diciamo Forse Tutto sarebbe preso Come uno spoiler Ma chi avrei insultato io Ma se tu mi dai Del venduto Non hai insultato niente Va bene È un insulto Non è che mi devi dire scema Per insultarmi Per me è peggio Preferisco Mi dici scema Lo preferisco Però adesso Hai imparato una cosa Che anche Come dire Sottintendere Che noi saremmo stati pagati Per non dire niente Sulla storia Ma se io ho detto Che boccio completamente Tutto quello che è stato aggiunto Ma non devi giustificarti Non c'è da essere pagati Direttamente Ti fanno un culo così Se ne parli Che però è una porzione Perché spoiler Non perché hai detto Che non ti è piaciuta Se noi in una live Full spoiler Live full spoiler Quando poi finirà Quando il gioco uscirà Per tutti Volessimo dire Tutto della trama Dall'inizio alla fine Lo potremmo fare benissimo Ma prima dell'uscita del gioco Sarebbe uno spoiler gravissimo Specie in una recensione Che per antonomasia Deve essere senza spoiler Lui non insulta le signore È un gentleman È un gentleman Va bene Grazie Giam83 Allora Comunque è strano Che tanti chiedano questa cosa È necessario aver giocato il remake Sì ragazzi Per forza È un sequel diretto O quantomeno Guardatevi un riassunto Ragazzi Sì ma lo volete Lo volete ascoltare Il vostro zio Raiden Che ecco Prendetevi il remake E giocatevi il remake Prendetevi il remake E giocatevi il remake E aspettate il terzo capitolo Che ci sarà nel 2028 Quello che è Per secondo me Comporre Il miglior Final Fantasy Di sempre Eh sì Sperando che Non Scalchino totale Con la storia Alt Alt Numurati a parte Che già sappiamo Che ci sono nel remake No Io dal remake Sto parlando Non del remake Cose che possono piacervi E non piacervi Ma non c'è nulla di male Essere pagati Vabbè Allora sei un troll Dai Stai trollando Certo che non c'è niente di male Sei una db Non c'è niente di male Ma se è una recensione C'è di male Ma in questo caso La recensione No Se non fate spoiler Vuol dire che siete pagati Ma ti rendi conto Eh Capisci Eh Allora Come consigliate di suddividere Primarie e secondarie Durante il playthrough Come vengono sbloccate Le varie attività E come sono inserite Nell'avanzamento del gioco Potrebbero distogliere l'attenzione O sono ben integrate Nell'avanzamento Sono ben integrate Allora tu puoi decidere Della seguente Siccome non si è Puoi sbattere anche un po' I coglioni Allora puoi giocarti Siccome è diviso in regioni il gioco Cioè non vi immaginate Un open world vasto Sì Integro Ok C'è una regione 1 Regione 2 Ogni regione si esplora Ed è diversa dall'altra Sì E si esplora in modo diverso Eh Infatti in ogni regione Ci sono tipologie di ciocobo Diversi Che hanno caratteristiche diverse E la struttura della regione Sfrutta quelle caratteristiche Per intenderci Un ciocobo che si arrampica sul muro Quindi magari ci sarà Una regione con più Pareti scoscese Per intenderci Sì Quindi tu puoi decidere Di fare prima Tutta una regione Completando il gioco Al 100% Quindi con tutti Gli incarichi Tutte le torri Tutti i santuati Oppure direttamente andare avanti Completi Fai pulizia E vai avanti Io non ho fatto il 100% E ve lo dico subito Ti rasci la quest principale Perché tanto rimani sempre Livellato il giusto Cioè non vai a essere troppo under livellato Rispetto alla main quest Oddio Magari Magari di 3-4 livelli però No ma magari qualche combattimento strada facendo Fatelo Ecco Quello Quello per forza Quello per forza Sì no io me li andavo a cercare un po' Però devo dire che si livellava Lasci la main quest E poi te le fai con calma Quando vuoi dopo Allora Square Enix si è rivolta molto Anche ai neofiti Eh lo fa Allora in Final Fantasy XVI Si è rivolta troppo ai neofiti Con l'anello della schivata Che praticamente ti rendeva Superman Ok Però potevi non usarlo Per carità Ma in Final Fantasy VII Comunque C'è ormai questa tendenza Ragazzi Come funzionava Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 Tutti Fino al 10 In realtà Non mi ricordo se è bene il 12 Ma forse anche Che Prima o poi Vi sbatteva davanti La realtà Di non Di essere Under livellati Rispetto ai boss Che dovevate affrontare Quelli obbligatori Della main quest A meno che Non aveste Già prima Grindato un po' Cioè farmato Fatto livellato Insomma queste cose qua E spesso e volentieri Magari alle prime armi Con i GRPG Non lo si faceva E quindi cosa si faceva? Boom Che ne so In Final Fantasy VIII Isola più vicino al paradiso Via a spaccare i culi E a livellare Non si deve livellare Ormai Non c'è bisogno ragazzi È una cosa anacronistica Cioè il gioco ti dice Intanto la quest La main quest Te la fai come vuoi Lo puoi mettere pure a facile Volendo Facendo le secondarie Sono arrivata io Al livello massimo Che è il livello 70 Ben prima di finire Tutte le secondarie Sì Ho fatto Io speravo Parte delle secondarie Senza livellare più Speravo che non ci fosse Un level cap Quindi Perché Non un level cap Così restrittivo Perché effettivamente Perché poi ti fanno arrivare Di più Penso Nel terzo capitolo Beh però se ti hanno fatto Ricominciare da quasi zero In questo Non lo so Non lo so Perché non è zero Perché ti parti a livello 20 Non mi ricordo dove Da cosa parte Da quanto parte No 20 no 20 no Non mi ricordo Grazie Giammo83 Non so se bella ringrazia Grazie Giammo83 Allora E anche Geniac94 Era Sienmai No volevo specificare una cosa Perché Mischi dice Ho visto la recensione YouTube Midna Mi è sembrata scettica Sulla trama È un problema che influisce Molto negativamente Sulla totalità del gioco Allora come Hai visto No sulla totalità no Sulla totalità no Non influisce Così negativamente Perché Io mi rendo conto Che è abbastanza soggettiva La cosa Infatti io non ero Lui non ha dato Tutto questo peso Per me Sono tutte cose Inutili E raccontate In modo adolescenziale Io ho fatto Ho storto un po' il naso Però ho detto E anche Con dei patetismi Di cui non se ne sentiva La necessità Ah su quello Sì sono d'accordo Questo Però magari c'è qualcuno Che non ha neanche giocato Con il fantasietto originale Che potrebbe anche Trovarle Belle Queste cose Cioè Che ne so Secondo me sono Oggettivamente Non scritte bene Però A parte questo Secondo me oggettivamente Potrebbe Per me non sono scritte bene Però qualcuno potrebbe anche apprezzare Per me non rovinano il gioco Perché è talmente bello il gioco Sicuramente ragazzi è candidato a Godi 2024 Ragazzi Perdonatevi Quest'anno è chiaro che non sia come l'anno scorso Non c'è un Baldur's Gate 3 Non c'è uno Zelda Tears of the Kingdom Però E quindi Ragazzi candidato C'è stato un commento Su Youtube Sulla recensione Diceva no Però secondo me non è da Godi Perché Perché non è Perché allora Baldur's Gate 3 Ho capito Ma quest'anno Quest'anno Baldur's Gate 3 C'è come dire No però secondo me Il Catania Rispetto a Juventus è scarsa Sì ma non giocheranno mai Una contro l'altra Adesso Perché quella è in Serie C E quella è in Serie A Per dire Quindi Sono Sì Probabilmente Chiaramente Sono categorie diverse Ma Sono in anni diversi Altrimenti nel 2021 It takes 2 Non avrebbe vinto Se ci fosse stato Baldur's Gate 3 Ragazzi Le come vi sono Parsi Sid E Vincent Valentine Ricordo Questa l'avevo letto Ma non sapevo se rispondere Allora Final Carg Voglio dire solo una cosa Su Sid E Vincent Valentine Sid l'hanno cambiato un po' Che si vedeva anche nel trailer Allora Innanzitutto Non fuma Ma perché Cioè nel senso Non l'ho mai visto fumare Non fuma Non ha le sigarette qua Non so se ci avete fatto caso Nei video Proprio non ha le sigarette Attaccate qua E non impreca Dice parolacce Va bene Però basta Perché secondo me No non dico altro Questa cosa Questa cosa Non ho ben capito Questo Com'è stato Però siccome Non è Molto presente Sid Sid e Vincent Non sono così presenti Come altri personaggi Scaffale Scaffale No nel senso Magari lo vedremo Nel prossimo Liot Liot dice Scaffale Lo vedremo nel prossimo No se non fuma Scaffale Perché fumava Tanti Cioè fumava anche Mentre giocava Allora questo secondo me Ci può stare Sai nel 2024 L'hanno un po' Politica lì L'hanno calmierato Se ti faccio vedere Sulla colonna sono La dice WM9 Le parolacce che diceva Vabbè ma anche Scusami Anche Barrett Buttava ogni tanto Un cazzo di qua e di là Un fuck Sì ma lui peggio Ah Sid C'è un montaggio Di tutte le parolacce Che dice sì Allora in Rebirth Si sentono vecchi host Presenti anche in remake Beh il tema di Tifa E il tema di Tifa Il tema di Eric E il tema di Eric Certo Un sacco Tutte Tutte quelle di Final Fantasy VII Ci sono più oltre Ma come detto Nella recensione Oltre ad altre tracce Addirittura si parla Di un 200 tracce aggiuntive Molte sono variazioni Sul tema E sono belle Sono veramente belle Certe volte c'è Che ne sono Una variazione sul tema Tecno Durante il Queen's Blood Per esempio Oppure Sempre il tema Di Eric Però diverso Come dire Strumentale Però con un'altra Con un'altro Approccio Più jazz Più Ragazzi Non vedo l'ora Che le tracce Me le mettano In Final Fantasy Theater In Final Bar Allora Domanda gettonatissima Il fatto di avere I salvataggi del remake Ti porta Le stazzo del remake No ragazzi Ma sarebbe un po' strano Se ti facessero partire Già con le materie Al massimo Già sarebbe già rotto A questo Avevo già risposto Sotto il video Nei commenti C'è un ragazzo Diceva però Che cazzata Che non mi fa Non mi fa salvare I miei progressi Almeno le materie Non dovete pensarlo Come il DLC No Ragazzi È proprio un sequel È God of War God of War Ragnarok Vi aspettavate di avere Le stesse cose Quando mai Si deve ripartire Quando mai Vi fanno ripartire In un sequel Dal punto in cui Avete lasciato Nel primo Che magari eravate In Amadonna È come se Cioè sarebbe un po' strano Anche a livello proprio ludico Sarebbe una rottura De palle poi Non avreste proprio Motivo di Approfondire Anche di livellare Di fare cose Insomma Grazie Lice of Pirla Grazie Lice of Pirla Quest'anno ci sono Tante belle cose Perché oltre a fare Fantasy VII Ci sarà anche Dragon's Dogma Però a mio giudizio Ragazzi è candidato Come finora Penso possa essere candidato Finora ragazzi Siamo arrivati al capitolo 7 Insieme l'abbiamo finito Quindi siamo al capitolo 8 Finora secondo me Anche Like a Dragon Infinite Wealth È sulla strada Della candidatura Alcuni dicono È il peggior capitolo Perché Vabbè Ci sono le Hawaii Un po' di Per me ragazzi Per tanti versi È il migliore Però vabbè Per cui insomma Quest'anno Sì Dragon's Dogma 2 Ma ben venga Ma ragazzi Ma ben vengono tanti candidati Io non sono d'accordo Per esempio Quei The Game Awards Che ne candida 5 6 Quanti ne candida Allora Infatti noi Nei nostri Play Inside Video Game Awards Candidiamo tutti quelli Che è necessario candidare Sì infatti Che possano essere Quest'anno Quest'anno 6 L'anno prossimo 16 Anche 10 Anche 10 Che ce ne fotte No Candidati tipo 10 10 Sì Perché mettere dei paletti Candidati Tanto poi sempre Baldur's Gate ha vinto Tanto poi ha vinto Baldur's Gate Sì Se poi un gioco è forte Ed è effettivamente Il migliore Lo sai come possiamo Scatenare l'inferno Permettendo di votare Due giochi Lì proprio si scatena L'inferno Allora Relativamente Perché se poi Votano sempre Cioè se quest'anno Avessero votato Sì però poi si creano Più Capito Ma comunque Se noi siamo molto Noi non ci Come dire Non ci obbliga nessuno A fare Possiamo fare Quello che vogliamo Stanzialmente Quindi Allora Stavo dicendo Le boss fight Sono a livello Di quanto visto No fai dire Ti ho rispondo Un'altra domanda Stavo dicendo Crisis score Dovete giocare per forza No 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 Ci sono delle cose Ragazzi di crisis score Però Nel senso che No L'importante È che magari Possiate leggere In generale Informate un po' Sulla storia Di Zach Feier Che è un personaggio Di Final Fantasy 7 Quindi non è un personaggio Però è il protagonista Di crisis score Perché è bene Conoscere informazioni Su Zach Feier È bene sapere Che esiste Perché Perché Insomma Ci sta Tutto qua Perché nell'originale Appunto Veniva trattato anche Quindi insomma Grazie Mischi Grazie Jacopo 7260 Scusa mi stavi dicendo Volare la domanda PSVR2 Eh no Sali Ah le boss fight Ecco le boss fight Sono a livello di E sali Di spettacolarità visiva Come il 16 Ma certe volte Anche meglio Certe volte anche meglio A me sono piaciute No Allora C'è da dire che il 16 Puntava tanto Su quella Se gli togli pure La spettacolarità Al 16 effettivamente Però Sono più spettacolari Da giocare Da giocare sì Perché Non so se ci siamo capiti Sì Sì Quelle sono più scriptate Queste qua Tu per esempio Puoi scatenare L'ira di un tuo Esper Quindi una summon Un'invocazione Quando vuoi tu Non c'è il momento In cui si trasforma Perché te lo dice il gioco Cioè E sì Chiaramente sì Perché devi far ricaricare L'ATB E devi ricaricare L'invocazione E le mosse Dell'invocazione Ok Però Te la puoi gestire Come vuoi tu Puoi renderlo Più o meno Spettacolare A seconda dei casi Quindi è una chiave Di lettura Che dipende anche Dal modo di giocare Di un giocatore Del giocatore singolo Puoi fare Per esempio Tante volte Le combinazioni Sinergiche Se riesci ad attivarle Per tempo Se le hai già attivate Nella sperografia Le hai attivate magari tutte E allora là ti diverti Perché ne fai un sacco Ed è tutto spettacolare No? Le avete viste anche Nella recensione Nel trailer di Final Fantasy 7 Roberto L'ultimo Allora una piccola Off topic Rispetto a Final Fantasy 7 Perché in realtà Questo è un Q&A vario Però giustamente Si 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 Ha senso comprare La remaster Di The Last of Us Parte 2 Avendo già giocato The Last of Us 2 Secondo me Ha senso So proprio se sei fan Fan Incredibile Che già hai voglia Di rigiocarlo E vuoi tutto Di The Last of Us 2 Se no no Secondo me Allora se tu dici Sai io voglia di rigiocarmelo Sicuramente è la miglior versione In assoluto Esatto si si Ma ne ho già parlato Nella recensione Ho detto proprio Questa stessa cosa Nel senso che Io per esempio Non ne avevo Tutta questa necessità Ci sono debolezze Sfruttabili Nelle boss fight Allora si Però dico una cosa Perché in realtà Se voi fate analisi Sarebbe scan Al nemico Vi dice Sia a cose debole Solitamente un elemento O un tipo di attacco Sia a come va In tensione Dopo che va in tensione Bisognerebbe insistere Per farlo andare in stremo Per riempire Tutta la barra arancione Che poi lo fa andare in stremo Magari Magari un nemico Va in tensione Se gli fate una parata perfetta Oppure se Lo interrompete Durante il cast Mentre sta castando una magia Parata perfetta Peraltro Allungabile Come tempo Come raggio Diciamo Della parata perfetta Grazie a determinati oggetti Che vi permettono Che vi permettono E materie Che vi permettono Però parlandoci chiaro A livello standard Io l'ho trovato abbastanza facile Non troppo difficile Esattamente Un gioco medio Come difficoltà Non tanto da dover dire Oh mio dio Devo capire Tuoli sono le debolezze A volte anche Un tipo di attacco standard Usando le varie abilità Alternandole bene Funziona Quasi con tutti Diciamo che a livello intermedio I più difficili Uno che fa Fa scan E si regola A livello intermedio Anche Il gioco vi permette Un attimo Vi dà quella tolleranza E vi permette quindi Di sperimentare Per esempio Se una magia Risulta Se ha una magia Il nemico risulta immune Allora ne provate un'altra Cioè Non dovete andare Per forza a colpo sicuro Sono dei combattimenti Che Giocato a livello Di difficoltà Normale Tra virgolette Vi lascia Un po' di tolleranza Anche per provare Sperimentare Vedere se effettivamente Ce la fate In un modo piuttosto Che un altro Per poter Affrontare quel nemico Si può scegliere Tati Ferit Come tra Yennefer e Triss Se hai giocato Final Fantasy VII originale Conosci già la risposta Grazie Germa98 Grazie Grazie mille E c'era qualcun altro Che diceva Per Una domanda off topic Ne diciamo Una ogni tanto Off topic Salendo Sali Sali Ah ecco Zio Bleed Chiedeva Come lo vedete Il fatto che il Den Ring Shadow of the Earth 3 E Enotria Usciranno lo stesso giorno Allora Io ho già risposto Escono lo stesso giorno Ho già risposto ieri In realtà Il 21 giugno 2024 Sarà secondo me Una bella data Perché esce Anzitutto Shadow of the Earth 3 E poi questo Enotria Di cui siamo Molto curiosi Ma secondo me Ma secondo te dovrebbero Spostarlo Non sarebbe la prima volta Ragazzi Potrebbero anticiparlo Anche solo di una settimana O posticiparlo Anche solo di un Non so Posticiparlo Una volta che giocano A Elder Ring O posticiparlo Di qualche mese E non sarebbe La prima volta Anche perché Non va a coincidere Con la chiusura O apertura Del nuovo anno fiscale Cioè Dell'anno fiscale in corso O apertura Del nuovo anno fiscale Per cui Secondo me Certo Ragazzi È una bella gatta Da pelare Immagino che sia Una bella gatta Da pelare Soprattutto per un piccolo studio Potrebbero pensare Di anticiparlo Di un mese Due settimane Però dipende Da che cosa Hanno in mente Di fare loro Da quello che Avevano pensato Di ottenere Fino a quel mese Lì A quel giorno lì Perché magari Hanno detto Cazzo lo chiudiamo Praticamente due settimane Prima Va in gold E poi lo pubblichiamo Non ve lo so dire Ragazzi Spetterà l'oro Informarci su questa cosa Però in realtà Ho notato Che si sta parlando Più di Enotria Perché è lo stesso giorno Di Elden Ring Piuttosto che Di Enotria E basta Quindi magari In realtà Paradossalmente Li fa pubblicità E la gente Si prende tutte e due Stai a vedere Stai a vedere Si possono craftare Anche le armi Tornando a Final Fantasy No Però potete craftare Le protezioni Le armi Le trovate Nei chest Oppure Le comprate Il crafting Si chiama Trasmutazione Ragazzi Che poi Se voi Vi perdete Delle armi Perché le armi A volte Sono nei dungeon Tipo negli scrigni Se magari Ve li perdete Poi però Più avanti Le trovate Nei negozi Le potete comprare Però costano Tanti soldi Quindi Meglio trovarle Prima Parlando Del DLC Del Ring Dato che From Software Vabbè Dice Fa presagire Che magari Non sia L'unico DLC Questo Ok 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 Non te lo so dire Onestamente Io penso Possa essere Abbastanza Non difficile Che sia L'ultimo Però secondo me Dipende anche Da come va Amico mio Perché Secondo me Loro Hanno già venduto Tanto Con Helder Ring Se dovesse vendere Anche solo Il 10-20% Di tutte le copie Del Ring Presenti Shadow Dare 3 Già sarebbe un successo Peraltro è un DLC Che costa 30 Che costa 40 50 euro Se Se dovessero vedere Di vendere Molto più del previsto Potrebbero pensare Di farne un altro Però Siccome From Software È molto autoriale Sotto questo punto di vista E Miyazaki In capo a tutti Potrebbero anche Favorire l'autorialità E pensare Sì Però io A fare un'altra storia Sempre in Helder Ring Mi risulterebbe tirata Per i capelli Quindi preferisco Non farla E lì Ci sarebbe anche Da applaudire Il fatto che Non vogliono inseguire Il soldo facile E sottostare All'autorialità Che è una bella cosa Mi chiedevo Perché Square Enix Se limite È un'esclusività Per Final Fantasy 7 Invece di farlo uscire Invece di farlo uscire Su più piattaforme Così da incrementare Le vendite Ma guarda L'esclusività di Final Fantasy 7 Anche Remake In teoria È momentanea È temporanea Cioè uscirà Perché Sony ha pagato Ragazzi Ma sicuramente Sony ha preso degli accordi Con Square Enix In teoria Prima o poi Doveva arrivare su Xbox Però per adesso No Ancora Ci è arrivato Anche Remake Ancora I Muguri ci sono Hanno un ruolo rilevante I Muguri ci sono E non hanno un ruolo rilevante Hanno un ruolo Di un'attività secondaria Perché hanno un loro negozio Minigiochini Pure loro Un minigiochino Per me proprio Lo odiavo Però va bene C'era sto minigioco Però Un secondo ragazzi Non si ricordava una cosa Briefing Non mi ricordava una cosa Non si ricordava una cosa Quindi Secondario Però poteva essere spoiler E quindi l'ho detta A microfono Sì 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 Grazie Omicron Le ho chiesto Posso dirla questa cosa E lei mi ha detto Meglio dirlo Grazie Giant Bear Grazie Giant Bear Grazie Grazie Omicron Di tre mesi per Playstation Puoi essere su PC Sì Su Xbox non uscirà mai E comincio a crederci Che possa non uscire mai Perché il remake A quest'ora Secondo me Sarebbe già dovuto uscire Non lo so che accordi abbiano Ragazzi Gli accordi di questo tipo Non li sappiamo Nessuno li sa Li sa solo Sony E Square Enix A parte questo Cosa ne pensate Della serie Life is Strange Non siamo grandi fan Non grandi fan Non grandi fan Però Anzi Non proprio Zero fan Zero zero No Comunque apprezzo Che abbia saputo raccontare Una storia molto teeny Ma allo stesso tempo Che abbia vinto un pubblico Non soltanto di teenager Però principalmente Il tema E il mood È molto teenager oriented Quindi è questo Forse che non riesce A farmi calare bene Nel mood Della Della Dell'operazione Del prodotto E mi fa rimanere Sempre un po' Ai limiti Dello stesso Pertanto Non mi coinvolge Come coinvolgerebbe Magari Un videogiocatore O una videogiocatrice Di Quell'età 15 anni 16 anni Domanda Nel remake Quando il remico Li vi ha stremato Se utilizzavi L'abilità speciale Del personaggio Praticamente Lo uccidevi A difficoltà media Qui con me La situazione Pure A meno che Non sia un boss Non è dissimile Sempre A difficoltà media Però eh Perché poi A difficoltà Difficile Ragazzi È chiaro Che Cambia tutto Com'è? Steam Deck O Rogalai Mi interessa Per me Avere una specie Di pc portatile Che possa far girare La maggior parte Dei giochi usciti Quest'ultimo periodo Se ti interessa Di avere un pc portatile Amico mio Allora forse Rogalai Fa più al caso tuo Se vuoi un sistema Chiuso Con Quel sistema operativo Steam Plug and play Praticamente Tutti i giochi Già verificati Ottimizzati Per steam Io ti preferisco Steam Deck Perché a me Non serve un pc Portatile A me serve Un pc console Portatile Steam Deck È molto più pc console Rogalai È molto più pc Potente portatile Non so se mi sono Spiegato Anche se poi Chiaramente Nulla di paragonabile Ai portatili da gaming Che però costano Molto di più Siete interessati A Rise of the Ronin Peccato che sarà Dimenticato Lo stesso giorno Di Dragon's Dogma Infatti Questa cosa mi dispiace Perché io sono Io stimo tanto Il team ninja Aspetto molto Rise of the Ronin Tra l'altro Siamo stati coinvolti In un'attività Con altri due Influencer Sabaku E Mike Shosha Oggi è uscita la storia È un'attività Che coinvolgerà Anche il pubblico Quindi questa è una cosa Interessante Sicuramente non sarà Dimenticato ai nostri canali Ma in ogni caso Io l'avevo inserito Nei giochi più attesi Dell'anno Da parte mia Prima di sapere Di fare questa attività Perché appunto Sicuramente mi interessa Essendo un action Tra l'altro Tra i più Forse sicuramente Il più Forse sicuramente Probabilmente Il più ambizioso Del team ninja Ma questo è quello Che hanno detto loro Quindi lo possiamo dire Intanto hanno detto Che è il progetto Più ambizioso Del team ninja Vediamo Ovviamente ragazzi Io quel giorno Darò priorità A Dragon's Dogma 2 Però Rise of the Ronin Avviene immediatamente dopo Grazie Samuiello46 Caramello Gliel'avete fatto provare Final No Ragazzi non si può Noi quando ci mandano Qualcosa Che è sotto embargo Non possiamo farlo vedere Ad altri Cioè Noi siamo molto professionali Sotto questo punto di vista Concedetemelo ragazzi Siamo molto ligi A queste questioni Diciamo Al rispetto di queste Embarghi NDA Che sarebbe Non disclosure agreement Per cui Non è che Abbiamo noi il codice In anticipo Perché noi Possiamo fare la recensione E invitiamo il mondo A casa A vederlo Perché sarebbe un po' Come violare l'embargo Quindi non facciamo mai Di queste cose Anche se Caramello Non direbbe niente Anche se è suo fratello Non lo facciamo mai Perché è una questione Proprio di Principio Preferiamo così Piuttosto Prima che poi Caramello Piglia si fa scappare una cosa E dice Dove l'ho provata A casa di Pellerenza Ma come C'era l'embargo E a me non hanno fatto Per dire Per dire In Farfata Sette Rebirth Il gioco di carte A diversi livelli Di difficoltà Come il Gwent In The Witcher No Però Ci sono Avversari Di difficoltà Diversa Ci sono avversari Scarsi E avversari Fortissimi Sì Sì Ci sono vari livelli Livelli di difficoltà Secondo l'avversario Grazie Samuiello Grazie Dice ma cosa rischiate C'è uno che ha scritto Cosa rischiate Matic 917 E leggino Cosa rischiate esattamente Con l'embargo Se lo violate Giusto per curiosità A parte la brutta reputazione Che per la realtà ci sono Allora perdiamo di credibilità Totalmente Nei confronti dell'azienda Che sicuramente Non ci metterà in blacklist Che poi non ci manda Ma poi la stessa cosa Però faranno anche altri Perché Ah ragazzi Sarà una cosa accadente È importante Ma poi per fare che Aspettate È importante Che sappiate questa cosa Perché effettivamente È una cosa Giusta da spiegare Le aziende Non si incazzano Se tu gli metti Un voto basso Al gioco loro Perché quello Devi essere libero Di fare Cioè libertà d'espressione Tu devi essere libero Di esprimerti come vuoi Ma si incazzano Se violi l'embargo Però poi puoi dire Peste e corna Di un gioco Se non ti è piaciuto E quindi Mi piace Mi fa piacere Poterlo ribadire Anche se già Molti di voi Lo sanno Però è proprio questo Cioè Ecco Non si incazzano Se tu gli metti Tre al gioco Perché quello sarebbe Anzi Non poter fare Il proprio lavoro E se si incazzassero Per quel motivo Si attaccassero al cazzo Ma si incazzano Se tu violi Un embargo Che è A cui devono sottostare Tutti quelli Che per esempio Oggi sono usciti Con la recensione Quindi colleghi youtuber Siti stampa Eccetera Perché quello È una cosa Che non si può fare Perché Va incontro Anche i loro Va contro I loro stessi interessi Perché tu In quel momento Stai spoilerando qualcosa In un momento In cui non puoi farlo E hai anche un vantaggio Non autorizzato Sugli altri Perché esci prima Con una recensione Magari di un gioco Molto atteso Dici Perché lui esce prima Capito? Si fanno preferenze Si farebbero preferenze Altrimenti E non ce ne devono essere Preferenze Dobbiamo uscire tutti Contemporaneamente Senza farci influenzare L'un l'altro E rispettando Quelli che sono gli embargo Poi uno gli può mettere tre L'altro gli può mettere dieci Alla software house Se è una software house Seria Se ne frega E continua a mandarti i codici Altrimenti In quel caso Che te ne frega Se non te li manda più Ma se tu hai violato l'embarco Hai fatto una cosa Che È illegale Cioè hai praticamente Hai violato un contratto Hai violato un contratto Che ti dice Non puoi pubblicare Prima di data tot Mai Mai un contratto Può prevedere E se dovesse essere così Non lo firmerei mai Che se Lo violi Se non metti un voto minimo Di 8 Quello Quello ragazzi Farei proprio Il video su youtube Guardate che contratto Mi hanno proposto Anche se li poi violerei La privacy Ma quello è un altro E poi in alcuni casi Possiamo dire per esempio Che stiamo giocando al gioco In altri Neanche quello Cioè ci sono alcune cose A seconda Allora Quello credo che sia perché Alcune aziende Si spaventano Che tu Se dici Sto giocando A questo gioco Possa essere Oggetto di circonvenzione Da parte del tuo pubblico Cioè Tu possa cedere Alle richieste Del pubblico Che ti chiede Ma com'è 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 E quindi dice Magari un momento di debolezza Ti è scappato di dire Che ci stai giocando Quindi poi ti scappa Di dire anche com'è Quella credo sia Una prudenza un po' eccessiva Se mi permettete Cari aziende E caro pubblico Se è Vabbè Ragazzi Avevo detto Devo cambiare il server E mi ho scordato Prima di partire In live Ragazzi Scusate Abbiamo scherzato Con i poteri forti Questa è la cosa La minchia I poteri forti Ci hanno censurato Allora dicevo In generale Non sto parlando Della situazione Final Fantasy 7 Rebirth Però Effettivamente è vero Che spesso voi ci chiedete Quando sapete Che abbiamo un gioco Ci chiedete Com'è 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 Quindi per evitare Che magari Ci sia questo assillo A chi ha già il gioco E che magari poi Se uno ha poca esperienza Se lo fa scappare Ti dicono Non dirlo neanche Che ce l'hai Però alcune volte Magari è un po' Esageratina Come scelta Ecco Allora Enstil l'ha chiesto Mille volte Ci sono più armi Rispetto a Remake Come numero Guarda io Non ho risposto prima Perché semplicemente Non è che Non me lo ricordo Non è che ho contato Le armi di Final Fantasy 7 Rebirth Non mi ricordo Ci sono tantissime armi In Final Fantasy 7 Rebirth Ci sono tante armi Sicuramente soddisfacenti Tantissime Tante Ci sono tante armi Poi ogni arma Ha le sue abilità Quindi ti viene Di utilizzarle tutte Non è che per forza C'è quella più potente E quella meno potente Sì Però a volte Una ha un'abilità particolare Magari preferisci Usare quella Per impararla Se uno Ecco Hansler dice Se uno si svegliasse La mattina Dicendo i player inside Mi hanno detto Questo riguardo il gioco Mentendo sputeratamente Ma rilevando informazioni reali C'è modo di tutelarsi Ne confronti La propria immagine Ne confronti L'azienda Square Enix Assolutamente sì Tu dovresti dimostrare Tu azienda Dovresti dimostrare Che effettivamente Io abbia diffuso Platealmente Quelle informazioni O anche solo in privato E non lo potrei Dimostrare Se non è vero Quindi è chiaro Che insomma Ragazzi Tutti possiamo dire Quello mi ha detto Questa cosa E poi magari Ci azzecchi Oppure anche cose più gravi Però se non è vero Non è vero Se uno è in buona fede Ragazzi Tranquilli che cascate Sempre in piedi E poi ci sono i casi In cui sono Insomma Ho visto Di recente Non ho vista tutto Ho visto una mezza Prima puntata Di Ti dico un segreto Su Netflix Che effettivamente Tratta di questa cosa qui Ovvero Furto di identità No? Cioè di uno Che praticamente Creava profili fake Di ragazze Che stalkerava Fingendosi loro E provandoci Con i ragazzi Delle sue amiche Delle loro amiche Eh ho capito Però chiaramente Quella diceva Ma non sono io Però loro In realtà Vivevano dei cazzi Perché poi Lui era particolarmente Abile Ma questo per tutte cose Cioè Si può Può succedere In qualsiasi caso Però Nel Cioè se Se hai in attimo Le palle E riesci a gestirla Lo vuoi dimostrare In 448 Che non sei tu Assolutamente Altrimenti Saremmo sempre Nelle mani Di Di tutti E di nessuno Allora Con il fatto Dell'open world Si possono fare robe Alla sabaku Early game Cosa sono le robe Alla sabaku Tipo che rompi il gioco subito Perché alla sabaku Sabaku Questa vuol dire Nel senso che puoi fare cose finali All'inizio No ragazzi Come ho detto Non è un open world Non capisco perché Ancora si dica Che è open world Non è open world È diviso in regioni Macro regioni Io ho detto che è un open map Dovete spostarvi Con il viaggio rapido O con un determinato tipo di viaggio Tra una sessione e l'altra Quindi non è Potete all'inizio del gioco Andare ovunque Ecco questo Poi I nemici storici di Final Fantasy Come Tom Berry O i Molboro Tu però le leggi Le devi leggere Diciamo che ci sono tantissime cose Cioè classiche Ragazzi I fan non rimarranno delusi L'ho già detto Domanda off topic Sto recuperando Si è disconnesso Troppo di utenti Totale Questo è l'utente medio Che segue Player Inside Così Disconnesso Allora Domanda off topic Sto recuperando Yakuza Partendo dallo zero Ho notato che In alcune missioni secondarie Dei riferimenti Ai capitoli successivi Sarebbe stato meglio Partire da altri capitoli Perché il zero è uscito Dopo il 5 E quindi Per forza Capito In teoria Sarebbe Sarebbe L'ideale Partire Dall'1 Quindi per fare 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6 Perché è l'ordine Con cui sono usciti Però Quanti riferimenti hai trovato Comunque pochi Poche cose Che non penso Che ti abbiano rovinato L'esperienza Allora Sì Devi fare Remake Gen drastic Per giocare Hai giocato Il classico Final Fantasy VII Però Beh Sai cosa Già è meglio Di non aver giocato niente Remake però Introduce una cosa nuova Che non c'era nel 7 Che è la cosa Che un po' Ci fa girare gli occhi al cielo E quindi Lì lo devi vedere Perché se no poi Arrivi nel Cominci Final Fantasy VII E le porte Che subito fai Che cosa sto guardando Quando cadete Stacco il contatore Per esservi vicini Raffi Come trama Preferite questa parte 2 Final Fantasy VII Allora vediamo Se possiamo rispondere Senza spoilerare Stiamo parlando Di Final Fantasy VII Ovvio che preferisco questa Sì Alla fine Alla fine Final Fantasy VII Quindi per forza Preferisco questa Alla fine sì Quindi bisogna giocare L'originale Remake No l'originale Non per forza Sarebbe fantastico Ma non per forza Se hai giocato Sia l'originale Che il remake Top Hai fatto tutto quello Che devi fare Se no non è obbligato A giocare l'originale Altrimenti Ti puoi giocare Anche solo il remake Per capire appieno Quello che succede Nel Rebirth E che succederà Nel prossimo Che ha detto Di alcuni Ti aveva detto Forse Ferri Re Lara Diceva che si potrebbe Chiamare Reunion Vabbè perché Se pensiamo Ogni cosa comincia Un re E Reunion È una parola Ripetuta spesso In Final Fantasy 7 Se no come si potrebbe Chiamare ragazzi Solo risposte sbagliate Final Fantasy 7 Re Reunion Però già è il Crisis Core Vero? Giusto Quindi come si potrebbe Chiamare Una volta l'abbiamo Fatta Però mi sono scordato Re Fantazio Re Fantazio Repetto Repetto ci sta Re Bibbia Re Bibbia Redemption No Redemption Già può essere Recalcitranza Recalcitranza Re Reconi Reggio Calabria Reggio Calabria Reggio Calabria Reggio Emilia Reggio Remade Giusto Regresso Reflusso Re Player Inside Pure Re Canati Resident Evil Resident Evil Retto Reneziamo Reietto Recensito Ci può stare Reborn Reborn potrebbe essere Reborn potrebbe essere Dopo Roberto Però Roberto Reborn Reumatologia Fana Fantasy 7 Reumatologia Rendito di cittadinanza Rettoscopia Reddito di cittadinanza Sì Renal Retto Rene Relax Giusto ci può stare Retard Renato Pozzetto Re Umberto I Vabbè insomma Questi sono Ezio Greggio Ezio Greggio Re non c'è Sì 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 Grazie a Puglia Sì sì see